musica 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 e ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale siamo qui signori con il secondo video specialo musica siamo qui sempre in compagnia di gaz grazie per l'invito ragazzi siamo qui con il secondo video speciale sul campo da calcio oggi siamo nella woodwork challenge dovremmo riuscire a prendere i due pali e la traversa nel complessivo ovviamente non in un unico tiro non siamo mica maradona o gli e benji si va avanti a oltranza il primo per impeccato che tre vince semplicemente fatevi problemi riprenderò tutti in tre tiri 5.000 mi piace ragazzi per questo secondo video incredibile quindi ci siamo partiamo e vamo quanto io voglio subito la traversa così me la tolgo davanti eccola riproviamo la traversa riproviamo la traversa eh e vamo con una precisione chirurgica con una precisione chirurgica e volevi niente io insisto insisto dai cazzo che t'aime che t'aime che t'aime oh sì che t'aime ma non buon nation eh vabbè oh ah che t'aime guardalo che impone che t'aime e si va a vincere e si va a vincere è maffacuore nooo Noo! L'ho toccata! Dai l'ho toccata! Ho preso la faccetta! Ho preso la faccetta! Ho preso la faccetta! Uuuuh! Di nuovo! Ma è possibile! Eeeh! Doppio! Ho vinto! Un po' vinto! Noo! Incrocio del mare! Noo! Incrocio! Non è il do! Dai! L'attenzione! Ma che schifo è? L'attenzione! Sono un po' vinto! Come! Come! L'attenzione! OOOH Abbiamo già giocato troppo L'ultimo palo Andiamo a Berlino di nuovo E' l'effetto della terra di Bari Supponiamo i 5 miliardi di piace per quest'altra challenge incredibile Passate dal suo canale Ci sono altre challenge ragazzi Vi lascio sotto il link Passate da tutti i social in descrizione Dai canali di Brelli sempre sotto in descrizione Un saluto a Gaz Ma poi ne vincerò una Il video è finito Da The Giant e Gaz E' tutto Ciao Valeo Ciao